Buonasera e benvenuti al nostro consueto di approfondimento Pianeta Oggi Reporter. Siamo in collegamento video con Giorgio Bongiovanni, direttore della rivista Antimafia 2000, stigmatizzato a Fatima e un personaggio a mio avviso molto interessante, noto a livello mondiale e che ci trasmette un forte messaggio per la salvaguardia della vita del nostro pianeta, fortemente attivo nel sociale appunto con la rivista Antimafia 2000. Noi l'abbiamo raggiunto subito dopo un convegno. Gli chiedo subito, Giorgio Bongiovanni, la mafia con molti soldi in suo possesso potrebbe creare una minaccia allo Stato di tipo economico finanziario se spostasse il denaro altrove? Minacciare lo Stato nella sua interezza e nella sua capacità economica credo che sarebbe un po' esagerato, ma la capacità economica che possiede oggi la mafia, le mafie, perché quando parliamo di mafia in generale parliamo di tutto e parliamo di niente, cioè dobbiamo spiegare chi sono le mafie. La mafia per eccellenza è cosa nostra, per eccellenza non lo dico con orgoglio da siciliano, lo dico con tristezza, per eccellenza è cosa nostra, ma le mafie sono l'Andrancata, appunto cosa nostra, la Camorra e la Sacra Corona Unita. Queste sono le quattro mafie più potenti in Italia, la più conosciuta e la più famosa tristemente è Cosa Nostra Siciliana, attualmente però la più potente a livello economico militare è l'Andrancata calabrese. Cosa Nostra ha perso quella potenza militare, certamente non economica, la continua ad avere, grazie a Dio per i colpi che ha subito dalle forze dello Stato, quelle vere, cioè i magistrati che cercano i latitanti con l'aiuto delle forze speciali di polizia, con i ragazzi della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza che cercano i latitanti, con i sequestri dei beni, tutto il lavoro che fa la magistratura e la polizia giudiziaria. Non è il governo che ha successo contro la mafia, il governo è fortunato, qualsiasi esso sia, quando le forze dell'ordine, magistratura in primis, polizia, carabinieri eccetera, riescono ad arrestare i latitanti, riescono i giudici a fare condannare i mafiosi, all'ergastolo e quant'altro, ma non è il governo, è lo Stato, le forze della magistratura, con la partecipazione del governo, sia di destra o di sinistra, quindi quando un governo rivendica il successo contro la mafia è propaganda, qualsiasi governo dovrebbe dire, sia di destra o di sinistra, che sia, grazie alla magistratura, polizia e carabinieri, che ci danno onore a questo governo e che stanno facendo una seria lotta alla mafia. Chi, l'unico personaggio del governo che si potrebbe anche ringraziare per la partecipazione, attenzione, non perché ha coordinato, per la partecipazione a questi successi, è il ministro degli interni Maroni, che per quanto sia di una parte politica o di idee che noi non condividiamo per niente, ha partecipato positivamente a questi ultimi successi che ha avuto lo Stato nella lotta contro la mafia. Detto questo, rispondo alla tua domanda. La forza economica della mafia può sicuramente mettere in serie difficoltà l'Italia e può sicuramente, se dovesse portare altrove i soldi che possiede, rischiare di far uscire dall'euro l'Italia. Se no farlo uscire, ma comunque, certamente rischierebbe, costringerebbe il nostro paese a spezzarsi in due, ed è quello che certi personaggi politici vogliono, c'è la divisione della Repubblica, e il sud andrebbe letteralmente alla deriva come una nave quasi affondata e il nord forse si salverebbe e rimarrebbe dentro la zona euro. Si spaccherebbe il paese o addirittura, questo non lo so, veramente non lo so, addirittura il paese uscirebbe fuori dalla moneta unica, quindi noi andiamo verso paesi come l'Argentina e l'Uruguay, paesi che ritorniamo a 50, 60, 80, 100 anni indietro. Questo perché? Perché le mafie, tutte insieme, possiedono 2 milioni di miliardi delle vecchie lire in patrimonio economico e soldi liquidi. 2 milioni di miliardi delle vecchie lire sono il debito pubblico italiano e la capacità di ricchezza delle mafie è esattamente pari al debito pubblico italiano. Quindi questi signori che voi, purtroppo, per ragione, perché non siete stati mai informati, avete considerato sempre ignoranti, zoticoni, condatini, con gli scarponi sporchi e con le pange grosse e la coppola, in realtà sono i padroni dell'Italia, perché se possiedono 2 milioni di miliardi di patrimonio, in ricchezza immobiliare, società, soldi liquidi, terreni, case e quant'altro, si vede che non erano così zoticoni, scarpe grosse, coppola e lupara. Si vede che sono stati coadiuvati, appoggiati, agevolati da personaggi potenti che magari noi vediamo tutti i giorni che ci fanno la predica sull'etica, sulla moralità e invece erano e sono dei delinquenti. Il fatturato annuo della mafia in Italia è intorno ai 100-130 miliardi di euro. Vi ricordo che questo fatturato è tutto in nero, non è che c'è la ricevuta, la bolletta. 130 miliardi sono il fatturato messo insieme, non individuale, messo insieme di società come la Fiat, l'Eni, la Finmeccanica, la Fincantieri, tutte queste società messe insieme, la mafia da sola li batte come fatturato, quindi è come li batte, senza pagare le tasse, cioè in nero, con il traffico di droga, con il traffico di armi, con la prostituzione, con il gioco d'azzardo, con gli appalti pubblici, con la corruzione, con le tangenti, li batte con questo volume da fare. Il resto penso che avete l'intelligenza per poter capire in che mani siamo. La relazione è semplice, io sono credente cristiano, ho un'esperienza spirituale che ormai tutti conoscono, sono stigmatizzato, ho avuto questo miracolo a Fatima e per me fare la lotta alla mafia non è semplicemente importantissimo e giustamente dare un contributo sociale e nel caso mio di giornalista professionale alla società, al miglioramento della nostra società, dando informazioni giuste e cercando di illuminare i cittadini su questo gravissimo e serio problema, qual è la mafia? C'è anche una componente spirituale, mia personalissima, condivisibile o meno, ma c'è che è quella che io considero la mafia l'anticristo, una parte dell'anticristo, quell'anticristo che Gesù nel Vangelo ci indica come, con nomi simbolici, Satana, Demonio, Male, Lucifero, quello che nella Bibbia l'Apocalisse chiama la bestia, il 666, l'anticristo. Ecco, io ci vedo anche una parte teologica e per tale ragione, essendo la mia fede cristiana e a maggior ragione il mio impegno sotto questo punto di vista, ha anche una ragione spirituale nella lotta contro la mafia. So che sei fondatore, socio fondatore di una associazione molto importante, la Funima International, quindi un aiuto ai poveri, un aiuto ai bambini, questa associazione ricordiamo sta aiutando i bambini e le popolazioni delle Ande Argentine che vivono in condizioni davvero disperate. Quindi l'aiuto ai poveri, dicevo, l'antimafia, i serretti di Stato, ad esempio vedi l'ufologia, le stigmate, questa tua esperienza spirituale molto forte. Ecco, queste cose, come si relazionano tra di loro? La mia passione per la vita extraterrestre, il cosmo, l'universo, la mia fede cristiana, il Vangelo, le profezie, l'Apocalisse, sono strettamente collegate con loro e apparentemente scollegate o all'antitesi, se volete, nella lotta alla mafia. In realtà, e questo sul piano umano, umanistico e storico, è così, non c'entrano niente. Invece, se voi ragionate dal punto di vista spirituale, come vi ho detto prima, le tre cose si collegano perché un buon cristiano deve annunciare la parola di Cristo, che contempla tutto, la teologia, la scienza, l'universo, le profezie, i valori etici, i comandamenti, il rispetto della vita e quant'altro. Deve aiutare i poveri, il buon cristiano, quindi i poveri e chi soffre, soprattutto se sono bambini. Questo fa parte dei precetti cristiani. E' un terzo precetto che molti dimenticano, ma che alcuni cristiani, come sacerdoti, come donciotti, ma anche come laici, come me e altri, ricordano che è quello della denuncia dei mali e del mondo e dei delinquenti. Gesù, nel Vangelo, se lo leggete, spero vi invito a leggerlo, denunciava i delinquenti, gli puntava il dito, gli scribe ai farisei, ai re, ai potenti. Era un continuo, una continua denuncia di Cristo nelle sue prediche del potere che opprimeva i deboli. E poi Gesù pregava e guariva gli infermi. Questa era la missione di Gesù. Siccome Gesù ci ha detto seguitemi, lo dobbiamo seguire, ma non solo nelle cose che sono più comode, aiutare gli altri e volersi bene, anche nelle cose che sono scomode, come quello di dare la faccia. Gesù non è stato ucciso perché guariva. Gesù non è stato ucciso perché invitava la fratellanza. Gesù è stato ucciso perché smascherava i criminali, perché diceva la verità. Per quello è stato ucciso. Qui emerge un forte messaggio per la salvaguardia della vita. Assolutamente sì, della salvaguardia della vita, però con giustizia. Altrimenti la vita è meglio non viverla senza giustizia. Grazie a Giorgio Bongiovanni per queste spiegazioni di carattere fondamentale. Grazie a te Massimo. Si conclude qui il nostro collegamento video con Giorgio Bongiovanni, che ricordo è stato raggiunto subito dopo un convegno in Friuli Venezia Giulia. Una intervista che ha voluto creare delle basi per poi realizzare interviste sempre più specifiche sulla esperienza spirituale rivolta a tutta la società mondiale. Grazie per averci seguito. Buonasera. Grazie a tutti.